Buongiorno. Siamo in che località? Siamo a San Salvo, su una piantagione di Paola della Cortevilla 2, messa a dimora il 5 di aprile del 2018. Taglio tecnico dopo? Taglio tecnico dopo un anno e adesso ci troviamo, diciamo, sui diametri molto molto vicino alla taglio amatorietà. Corretto. Secondo me, dopo quella che si vede qua, il taglio si deve fare dicembre, gennaio, dicembre, al fine dell'anno. O al massimo gennaio. Si procede così in questa piantagione. Alberi sono mantenuti bene, solo che lo so che è stata una tromba di aria, no? Molto forte, una tromba di aria che quando è successo erano, dopo il taglio tecnico, ad un'altezza di 3 metri, 3 metri e mezzo. Non dico ma quasi la metà le hanno spezzate le punte, hanno dovuto ripartire con la crescita. Questo ha fatto perdere un po' di tempo, è chiaro? Si, si, si. Rifare un taglio tecnico dopo un anno, normalmente. Approssimativo. E' perso un anno quasi, approssimativo. Si, un anno è andato. E allora, da che non era quella, ora, oggi, era tempo di tagliare. Si poteva fare il taglio a maturità. Perfetto. Va bene. Questa è importante. Siamo in una zona dove piove o non piove? Del'estate. Sui 30-40% rispetto al normale. Poca pioggia perché è una zona, diciamo, vicino al mare. Si.